16 maggio, Villa Comunale, Piazza Vittoria, dalle 9 alle 14, la quarta edizione Roussanghechi de Bip. Accorriamo tutti, doniamo il sangue, facciamo una buona azione, ci saranno tanti bip, tanti cantanti, tanti attori, ci sarò pure io. Dici, ma bui, ma come ho fatto, giustamente? Ma io già mi sto allenando per donare il sangue, guardate, già sto in palestra, tre minuti già sono stancchi, e io sappiate che dono, l'acqua, ma!